ciao a tutti bentornati sul canale di filo e stitch stasera andiamo ad aprire questo pacchetto è una collaborazione con un'azienda do it you do it yourself e che potete trovare su internet sul sito do youtube.com allora intanto vi faccio vedere quello che mi è arrivato da loro molto veloci sia nella risposta che nella spedizione e curiosissima come voi vado ad aprire il pacco allora una cosa importante fino al 31 maggio se acquisterete sul sito di due youtube.com avrete la possibilità di avere il 35 per cento di sconto utilizzando il codice con il codice sconto filo e stitch 35 vi ricordo che lo sconto del 35 per cento è cumulabile con gli articoli che sono già in promo quindi andate a vedere allora innanzitutto mi hanno mandato nel nel pacco c'è il riepilogo dell'ordine e in più come potete vedere c'è anche eventualmente degli sconti e ci sono degli sconti del 15 del 25 del 35 del 45 per cento più un omaggio swarovski in base eventualmente agli acquisti che voi fate agli importi che voi fate però ricordatevi di utilizzare comunque il codice sconto filo e stitch 35 che è valido fino al 31 di maggio adesso andiamo a vedere quello che mi è arrivato allora innanzitutto ho preso questo filo elastico è fettuccia tubolare bianca è di 10 metri come vedete è elastica serve appunto io l'ho ordinato per fare gli elastici dei portamascherine che voglio fare perché io farò dei portamascherine ma che non vanno a sostituire la mascherina in sé per sé perché ovviamente la garanzia della copertura che una mascherina da non è quella che da una mascherina fatta con stoffa di cotone ovviamente quindi io andrò a fare dei copri mascherine e utilizzerò questo elastico per completare diciamo il copri mascherina ho preso degli accessori questo che è della prima ed è il forma angoli che serve per girare gli angoli lo apriamo e vi faccio vedere ecco qua è fatto in questo modo ovviamente se dovete tirar fuori degli angoli dai vostri lavori infine si infila questo e tira fuori l'angolo senza andare a bucare la stoffa il sito di do youtube.com oltre ad avere attrezzi e accessori per il cucito perché vabbè a me piace il cucito creativo ha tantissimi altri accessori per qualunque tipo di hobby come per esempio a chi piace fare la resina a chi piace fare accessori con le perline quindi diciamo che ha tantissime cose anche attrezzi per l'uncinetto sempre come attrezzi ho preso questo della prim ed è un come si chiama un tagliafilo professionale allora vado ad aprirlo insieme a voi come vedete è ben come vedete è ben sigillato e ben protetto proprio per evitare di farsi male eccolo qua va tirato via il coperchietto ed è un rasafilo è professionale e quindi serve io lo utilizzerò tanto anche per andare a ritagliare la stoffa quando faccio i ricami con la mia ricamatrice adesso andiamo a ricoprire le punte voilà ed è apposto a questo punto io passerei alla stoffa allora ho preso della stoffa denim molto bella è un cotone molto bello comunque un denim non eccessivamente pesante e quindi si può utilizzare per fare diversi lavori e io ho già in mente a vederla già così un lavoretto molto carino che poi faremo insieme poi ho preso questa stoffa sempre in cotone è un tessuto stampa geometrica e ha una misura di 50 x 160 molto carina e questa può essere utilizzata per una borsa che ho visto recentemente molto carina mi piace e poi ho preso del tessuto tnt quindi un tessuto non tessuto ed è utilizzato proprio per fare le mascherine se qualcuno volesse utilizzarlo per fare le mascherine io ci sto ragionando eventualmente faremo un lavoretto con le mascherine con un porta mascherine e ovviamente vi ricordo però che anche se si utilizzano dei tessuti non tessuti l'importante è utilizzare poi sempre anche una mascherina adatta per prevenire i contagi quindi non prendiamolo sotto gamba assolutamente ecco qua questi sono gli acquisti che io ho fatto sul sito do you to io spero che vi siano piaciuti ci vedremo molto presto con un altro video dove andremo a fare insieme un lavoro con questa attrezzatura e niente io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo il codice sconto che è filo stitch 35 ed è valido fino al 31 maggio del 2021 iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per essere sempre aggiornato su tutti i video che faremo e ci vediamo al prossimo ciao